Presso l'ospedale Luigi Curto di Polla partirà a breve l'unità operativa semplice dipartimentale di oncologia, un servizio atteso e fortemente voluto che così inizierà finalmente a prendere corpo grazie anche all'arrivo e alla prossima attivazione di un moderno mammografo al momento in installazione. Questa mattina in occasione della presentazione della prima edizione della Camminata in Rosa, una a due giorni promossa dal Comune di Polla, grazie alla presenza del dottor Luigi Mandia, direttore sanitario del Luigi Curto e della dottoressa Narita Roscinio, responsabile della struttura dipartimentale di oncologia, sono state anche annunciate le novità in merito proprio al servizio di assistenza oncologica che sarà attivo presso l'ospedale di Polla, un primo passo importante che si spera possa anche portare a ulteriori servizi per potenziare proprio l'assistenza al territorio in materia di malattie oncologiche. Abbiamo un momento di collaborazione importante con la dottoressa Roscinio, che è un'oncologa che già ha lavorato in tanti posti della nostra provincia, della nostra regione e che viene qui ad assumere la guida di questo servizio che oggi parte, ma che è proteso a dare sempre di più alla nostra gente. Possono usurri del servizio venendo qui a Polla in un paio di giorni alla settimana, specificatamente il martedì e il mercoledì, questo per il momento. Dopodiché spero a breve riusciremo ad avere la dottoressa qui tutti i giorni. Se ci dovesse essere bisogno di ricovero ci sono i nostri reparti a disposizione. Se poi ci dovesse essere bisogno, come dire, di momenti più importanti relativamente alla cura di queste patologie, sarà la dottoressa ad indirizzare con sicurezza i nostri ammalati. In ambito oncologico il ruolo della prevenzione è un assoluto. Il nostro sforzo è quello, ma non è solo quello di fare prevenzione, è quello di andare oltre. Ci proponiamo, lavoriamo per fare presto qui anche le chemioterapie, quelle rosse, e non ci stancheremo mai fino a quando non riusciremo ad avere questo risultato. Abbiamo vicino anche tutta la comunità. Qui a Polla ci ha dato una mano anche l'assessorato del Comune, l'assessorato allo sport, l'amministrazione comunale. Domenica c'è un percorso rosa. Ci saranno tante associazioni, tante donne, tanta gente. C'è tutta una comunità che si sforza per andare avanti nel miglior modo possibile. Proprio la sensibilizzazione verso la prevenzione è il tema centrale che ha poi portato all'organizzazione dell'evento che partirà il prossimo 30 marzo a Polla con un convegno medico con inizio alle ore 17 che vedrà la partecipazione di oncologi e psicologi esperti. In serata all'ospedale di Polla si illuminerà di rosa. L'evento proseguirà domenica mattina con la camminata in rosa a cui potranno partecipare tutti indossando un capo di colore rosa e con la presenza in piazza Monsignor Forte di stand per prenotare gli esami oncologici da effettuare presso il presidio ospedaliero pollese. Grazie.